Siamo una grande società, milioni di parti in movimento. Ciao, ciao, come va? Lavoriamo molto duramente per garantire che queste parti siano un mezzo per raggiungere un fine remunerativo per tutti noi. Felice di vedermi? Dai, avvicinati al computer, guardami. Sei un superpapà. Mussano la porta. Lo vedi anche tu? Uscite tutti da lì! Cerchiamo, cerchiamo! Ehi! Mayday, Mayday. Qui è la di Fuotra Horizon. Che succede? Non lo so, amore. È ora di andare. Ti porto via. Mia moglie si chiama Felice. Non darmi questa responsabilità. La figlia Sidney. Non dipende da me. E io la rivedrò, è chiaro! Non voglio morire! Findati di me.